Ma noi dovremmo fare in modo che questo scempio finisca a Quamprimum immediatamente e quindi è necessario trovare una locazione libera alternativa in una realtà transeunte. C'è una locazione pronta a breve. C'è Fabio Gioia che con una pulizia della protezione civile potrebbe essere messo a disposizione non tra molto tempo. Monsignor Ettore Malnati invoca la protezione civile per l'intervento immediato nella gestione dei migranti senza tetto e l'allestimento di un centro per l'accoglienza notturno, un punto di accoglienza che possa sgravare il silos dalla situazione degradante in cui versa. Quindi viene rispolverata l'ipotesi di utilizzare il vecchio bazar di via Fabio Gioia. Ma Don Malnati più in generale pone una riflessione sulla questione umanitaria. Bisogna fare qualcosa per queste persone che vivono nel fango e nella sporcizia. È anche un problema sanitario che riguarda tutti. Bene che si stiano velocizzando le procedure per la chiusura del silos e si investa nel campo scout di Prosecco, ha rimarcato Monsignor Malnati nell'approfondimento serale di Telequattro. Ma il sacerdote rimprovera il comportamento della proprietà del silos. Coppa Alleanza 3.0. Ecco quello che realmente fa male è che anche in questa occasione si sfrutta. Quindi la proprietà sfrutta. Nel senso di dire mettetemi a posto il silos, aiutatemi a posto il silos e io lo vendo. A me interessa la dignità delle persone. Non interessa che la proprietà faccia del denaro sul silos che è stata un'onta per la nostra città. Ma si rende conto che questa proprietà ha impedito praticamente di poter entrare e poter fare in modo che queste persone potessero essere accompagnate in un'altra struttura? Questo è un problema. Il mio problema è che queste persone avranno ancora tempo di disattenzione nei confronti della loro dignità? Questo mi preoccupa.